Torna ad accendersi la tensione nel quartiere di Saione, ancora una volta al centro della cronaca locale. L'ultimo episodio in via Curtatone, martedì sera, attorno alle 21.30, si è acceso una lite e gli animi hanno subito iniziato a scaldarsi. Dalle parole poi ben presto si è passati ai fatti a filmare l'accaduto un residente. Il quartiere di Saione è dunque ancora una volta alla ribalta delle cronache locali. Solamente una settimana fa a Campo di Marta era stata aggredita un agente della polizia municipale di Arezzo, colpita mentre era in servizio da un giovane che aveva dato in escandescenze. La poliziotta era finita in ospedale al San Donato con vertebre incrinate. Sempre tra Campo di Marta e via Vittorio Veneto, nei primi giorni di dicembre una violenta rissa ad affrontarsi un numero piuttosto ampio di uomini finita con un accoltellamento. Insomma l'ennesimo episodio di degrado e microcriminalità che riporta così sotto i riflettori la questione sicurezza in un'area della città, quella tra Campo di Marta e Saione, dove sono frequenti risse, liti e aggressioni.